Io credo che i fatti di questi ultimi giorni, ovvero ad esempio ieri a Montebelluno, in provincia di Treviso, 20 immigrati sono stati presi e sono stati scaricati come dei pacchi postali di fronte prima alla stazione dei Carabinieri e poi davanti alla stazione ferroviaria. Questo è il modo di gestire l'immigrazione da parte di questo governo, o meno di non gestire l'immigrazione da parte di questo governo con una responsabilità enorme da parte del Presidente del Consiglio, da parte del Presidente, da parte del Ministro Alfano. Mi verrebbe da fare una battuta. In questo momento il partito di Alfano ha più indagati che voti vedendo quello che sta accadendo.